questo è il nostro primo anno di storia con voi e nello slide show si ricordano le copertine e alcuni servizi andati in pagina nel 2015 quotidien magazine è un'attestata giornalistica mensile che si occupa di fare formazione e informazione nel settore dell'enogastronomia 14 rubriche che spaziano dalla scienza alla tecnologia dalla cucina nazionale ai prodotti innovativi dalle tipicizzazioni italiane alla storia della gastronomia dall'annonaria ai controlli e alle interviste una visione un po differente del cibo in cui si parla molto di tecnologia processi e microbiologia io sono simona lauri e sono il direttore responsabile di quotidien magazine progetto grafico webmaster e impaginazione 20 service grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.